L'ombrellone sul bagnasciuga è solo un bel ricordo. Il mare si è riappropriato delle spiagge. Con il maltempo, giunto quest'anno in ritardo, tornano anche le mareggiate. Ora è emergenza erosione sulla costa. Sulla questione è intervenuto il presidente regionale del sindacato dei balneatori Riccardo Padovano. Tutta la nostra costa in queste ore è flagellata e martoriata dalle mareggiate annunciate, fa sapere Padovano che si rivolge all'assessore regionale al turismo Mauro Febbo per sollecitare l'intervento a difesa delle spiagge che ad oggi tardano a partire. L'emergenza riguarda tutta la costa abruzzese, da Casalbordino a Martinsicuro, ma le testimonianze della devastazione ci giungono da Silvi, in provincia di Teramo. Già è successo i primi di febbraio, abbiamo avuto dei crolli e abbiamo a nostre spese ripristinato il tutto. E oggi risvegliarsi e vedere che l'unica cosa rimasta in piedi era appunto ciò che era stato ripristinato prima ma il resto è lì che sta per cadere, lascia un po' lo sconforto. Diversi danni agli esercizi balneari, alcuni gestori questa mattina hanno ritrovato i propri stabilimenti bagnati dalle onde del mare come cetacei spiaggiati, altre strutture sono addirittura crollate. Sono quasi 30 anni che c'è una lamentela continua per l'erosione, ogni anno aumenta in continuazione, oramai sono 5-6 anni che quando vengono queste smareggiate non succede che altro che viene erosa la sabbia e viene riportata a largo dove manca, non essendici più i banchi di sabbia, quindi noi rimaniamo senza spiagge. Il sindaco di Silvi, Scordella, ha dichiarato che il comune da solo non può fronteggiare l'emergenza. Si attendono ora risposte celeri da parte della regione. Sono amareggiato per una parte perché la parte sud poteva essere almeno tutelata e salvata con i lavori con le scogliere che sono fermi ormai da anni per intoppi burocratici. Noi stiamo intervenendo come comune cercando di tamponare quello che si può ma chiediamo veramente un aiuto alla regione e al governo perché siamo in una condizione veramente critica. Naturalmente qui servono risorse importanti che il comune da solo non può apporre. Dunque speriamo veramente un aiuto ma celere perché purtroppo la burocrazia alle volte è molto lenta. Secondo le previsioni meteo la natura dovrebbe ora concederci una tregua ma non sono escluse altre perturbazioni nei prossimi giorni. Ormai la sabbia non c'è più dunque sicuramente il mare è avvantaggiato nel toccare ormai il tratto stradale.